17esimo memorial bruno averà pergine ball sugana con il suo maniero che va a sovrastare la valle circostante tutto è pronto per la terza tappa dell'italia bike up ciao young il percorso del 17esimo memorial riapre la sfida quindi tra le maglie di leader del circuito con l'organizzazione a cura della mountain bike oltre persina eccoci qua con la vista dall'alto stiamo sorvolando sopra il castello di pergine qui siamo appunto sopra anche quella che è la partenza l'arrivo e l'area expo che si trovano all'interno del parco dei tre castagni appena sopra pergine val sugana l'intero percorso appunto si snoda sotto la mole del castello pergine una delle fortezze più suggestive del trentino castello di origine medievale che si trova in cima al colle del tegazzo e regala ai visitatori un panorama unico sulle dolomiti del brenta e sulle montagne del trentino è stato anche ristrutturato il castello recentemente quindi che risale al dodicesimo secolo e oggi è visitabile è il momento della categoria juniores con 70 atleti al via tutto oramai pronto e appunto lo start sta per essere dato questa terza prova dell'italia bike up da sottolineare che non ci sono paccagnella borre i due grandi protagonisti delle prime due prove di verona e di campo chiesa al benga si parte quattro giri da percorrere con i ragazzi che cominciano a fare spallate e si inizia la serpentina del plotone a colorare appunto il tracciato di 4500 metri di sviluppo planimetrico un dislivello molto importante perché siamo sui 180 metri a giro dopo il via si affronta subito la parte più impegnativa del percorso la lunga salita che porta gli atleti nella parte alta del circuito proprio sotto la mole del castello pergine e che sfocia nel divertente bike park percorso quindi come dicevamo di 4500 metri qui intanto siamo nell'area dei box appena prima del bike park intanto vediamo la situazione con subito quattro uomini che stanno tentando di allungare si tratta di alessandro mancin ecco qua anche prontamente la grafica che arriva in nostro soccorso matteo ceschin felix hengele e simone magnani la formazione del pedale fidentino per magnani e per mancin per quanto riguarda invece hengele e che difende i colori della junior team su tirol asv mentre matteo ceschin li kugan mountain bike queste sono anche i quattro i tre team dei quattro uomini al comando che adesso si stanno dando battaglia quindi eccoci nella parte come dicevamo più divertente del circuito con il bike park è un bike park permanente con paraboliche sottopassaggi dossi rock garden drop e ancora tante tante paraboliche le curve che mettono alla prova la testrezza del manubrio da parte dei ragazzi un vero e proprio gioiello del presidente paolo al vera il presidente della oltre fersina che appunto oggi va a inaugurare con l'italia bike up con questa splendida manifestazione un'altra grande giornata di sport per le ruote grasse eccoci qua intanto con i quattro sempre che li vediamo al comando e beh è bellissimo invece molto suggestivo questo passaggio con i 70 atleti che sono tutti allungati lungo il tracciato del bike park tra l'altro da sottolineare che la oltre fersina ha anche il vivaio giovanile e da questo vivaio mattia stenico che due anni fa è andato a vincere proprio qui in casa il campionato italiano di mountain bike oggi invece milita con i colori del team giorgi perché le interviste che solitamente anche in giro troviamo è mattia stenico lo ricorderete perché quel ragazzo che è appassionato è innamorato del mountain bike tuttavia anche la strada c'è il suo richiamo e allora ancora si divide e il team giorgi gli dà la possibilità appunto di fare entrambe le due specialità quindi con il mountain bike e la strada con oltre fersina siete ricavato grandi soddisfazioni sicuramente un ragazzo nella categoria lievi l'anno scorso poi anche su strada l'abbiamo visto grande protagonista quarto quinto coppa d'oro campionato italiano su strada insomma la multidisciplina applicata per mattia stenico eccoci qua intanto ritorniamo in gara sempre con i quattro al comando nulla cambia con mattia ceschina li kugan e alessandro mancim pedale fidentino con simone magnani il compagno eccoci qua felix engle invece che difende i colori della junior team su tyrol ecco qua i quattro uomini con engle che va a chiudere questo quartetto siamo al passaggio quindi con la fine del primo giro tre giri alla conclusione anche qui ovviamente c'è il giro di lancio come siamo abituati a vedere solitamente nelle prove dell'italia bike up ciao young e qua appunto la vista dall'alto sorvoliamo sopra il castello e ci rilanciamo nel bosco che i ragazzi poi avete visto hanno dovuto attraversare matteo ceschini intanto al comando siamo tornati nel bike park nella parte più alta del percorso e ha allungato appunto ceschini con veemenza il portacolori della li kugan montan bai primo inseguitore alessandro mancim del pedale fidentino e qui appunto vediamo per quanto riguarda il ragazzo della li kugan montan bike che sta dando il tutto e per tutto dopo il primo giro affrontato in compagnia appunto di degli uomini del pedale fidentino e della su tyrol con felix engle il passaggio sulla parabolica con matteo ceschini alessandro mancini il secondo in questo momento con la grafica che appunto lo va a determinare con il passaggio su questo salto del bike park ci sono anche i cartelli che indicano prudenza ma questi ragazzi ovviamente i diti e le dita sui sui freni poco le tengono e qua al passaggio con il portacolori del sempre del pedale fidentino o simone magnani con il passaggio bellissimo e suggestivo questo questa parabolica con i ragazzi impegnati nell'affrontarla attenzione vediamo le marmotte loreto andrealino bertuletti che è andato al transito lo conosciamo appunto la prova quella di fiuggi di torre caetani in terra laziale con il grand prix del centro d'italia l'abbiamo conosciuto appunto abbiamo visto il suo esordio lì per il portacolore delle marmotte loreto che adesso è segnalato in forte rimonta con intanto sempre al comando lui Matteo Ceschin della Lee Kugan mountain bike per quanto riguarda appunto poi vediamo abbiamo saputo che con l'informazione c'è anche Gabriele Savin forte rimonta mentre Manchin perde una posizione quindi situazione in evoluzione alle spalle del leader Matteo Ceschin il numero uno della Lee Kugan che è tutto solo sempre più e il vantaggio non è importante perché ancora sono sui 30 secondi nei confronti di chi lo sta inseguendo e attendiamo appunto anche il riscontro visivo con intanto Matteo Ceschin che continua di passo regolare ad affrontare con determinazione il tracciato di gara eccoci qua sempre con Matteo oramai ci siamo quindi pochi poche centinaia di metri e il vincitore della terza prova dell'italia bike up si appresta appunto a prendersi la sua prima vittoria in questo prestigioso circuito si volta adesso controlla la situazione alle sue spalle e può gioire perché arriva tutto da solo in impennata Matteo Ceschin della Lee Kugan Mountain Bike vediamo dietro la sagoma è quella della formazione delle marmotte Loreto con Andrea Lino Bertuletti che si è avvicinato tantissimo a Matteo Ceschin vedete appunto la stretta di mano il fair play che appunto post gara li vede protagonisti arriva Gabriele Savio della Rock Bike Team che ha superato Mancin nel pedale Fidentino ma Alessandro Mancin che tuttavia può ritenersi soddisfatto perché con la quarta posizione con il punteggio che aveva accumulato dopo la prova di Verona che era giunto terzo e con la prova di Albenga adesso balza in seconda posizione con la classifica generale provvisoria e intanto l'ordine d'arrivo della prova juniors con Matteo Ceschin che ha concluso in poco meno di un'ora Andrea Lino Bertuletti le marmotte Loreto Gabriele Savio con la Rock Bike Team Mancin pedale Fidentino Matteo Benassi team Laverde Alessandro Bertaccini pedale Fidentino Riccardo Agazzi delle marmotte Loreto il compagno di Bertuletti Felix Engle junior team su T-Hall e con Stefano Navoni le marmotte Loreto chiude la top 10 Stefano Gerbaz della cicli Lucchini ed ecco qua il podio con i primi cinque corridori con Matteo Ceschin appunto che è il dominatore della prima prova internazionale del Memorial Alverrà. Eccoci qua intanto non c'è più un sole incominciano le nubi scure era dato segnalazione che il tempo era in peggioramento per la prova riguardante le ragazze con le donne open e donne uniones. La maglia di leader è sulle spalle di Chiara Teocchi abbiamo visto tra le Elite Tamara Widman la maglia viola per le under 23 quindi questa è la situazione per quanto riguarda la categoria open qui abbiamo la porta colori del team cingolani Saku eccoci qua intanto con quella che ha tanti titoli tricolori già messi in armadio con le maglie Chiara Teocchi vediamo appunto tutta la prima linea tutte le grandi protagoniste di questa prova che sta per prendere il via ufficiale attendiamo il fischio d'inizio dato in questo istante e allora partono le ragazze quindi con la categoria open 5 giri da percorrere il tracciato rimane invariato e allora adesso ci godiamo anche questa seconda prova internazionale con le ragazze che adesso cominciano la salita perché come dicevamo si va verso il bosco bosco cervo dove le ragazze affronteranno il tratto più duro della salita una salita che appunto già dall'indiscrezione pre gara perché le ragazze avevano già provato così come i loro colleghi il percorso di gara una salita che veramente toglie il fiato in qualche punto quindi avete visto poi nella gara juniore si capovolgimenti sul finale sarà un bel fuoco alle polveri adesso intanto con Chiara Teocchi che è andata a transitare prima la maglia di leader quella arancio della Italia Bike Cup Ciao Young e quindi tutte quante al passaggio abbiamo visto anche il team La Verde che è andata al transito sono con le ragazze poco più di una trentina per quanto riguarda la categoria delle donne open mentre per quanto riguarda la categoria juniores con bene una dozzina di unità appunto che sono partite insieme sono adesso lanciate verso il bike park con Chiara Teocchi eccola qua maglia di leader Ciao Young al passaggio nella zona dei box con i tecnici delle varie formazioni e con il rock garden vedete appunto anche la indicazione da parte del cartello organizzativo una serie di massi dove si indica anche l'attenzione massima nei passaggi più tecnici con Chiara Teocchi intanto un ritorno in patria per Chiara Teocchi che è tornata con dopo le sue che porta la sua esperienza e la professionalità al servizio del team Branzolo KTM Protect Electro System Atleta Elite ha vestito ben quattro volte la maglia di campionese italiana sia nell'XCO che nel ciclocross è stata anche campionessa europea nel 2016 nel ciclocross nel 2022 si è classificata e qui è una nota di merito per Chiara Teocchi dove ha conquistato la medaglia d'argento al campionato mondiale gravel nei campionati italiani XCO con il gravel dove ha ottenuto il bronzo in realtà con ovviamente questi sono i risultati più significativi di Chiara Teocchi per quanto riguarda invece Tamara Widman qui siamo al passaggio con la maglia viola leader delle under 23 sogna di fare della mountain bike la sua professione Tamara Widman giovanissima 21 anni di età quindi insomma c'è ancora tanto tempo per lei già vice campionessa d'Austria nella stagione corrente quindi insomma una promessa appunto Tamara Widman qui stiamo al passaggio abbiamo visto Francesca Sacco adesso del team Cingolani davanti a lei troviamo quarta Marta Zanga terza Astrid Miola qui intanto la leader della prova riservata alla categoria Juniores con Giada Martinoli eccoci qua intanto con Chiara Teocchi a un chilometro dal primo passaggio sotto il traguardo e quindi qui Tamara Widman seconda your under 23 che è lì a non più di 35 secondi in questo momento vediamo appunto intanto Chiara Teocchi che si destreggia e attraversa il bosco appunto che l'organizzazione ha predisposto in totale sicurezza per questa prova con intanto sempre lei Chiara Teocchi che adesso vediamo appunto affrontare con anche la nostra telecamera che fatica a rimanergli incollato alla sua ruota qui giusto in tempo si volta per cogliere la porta colori della Trek Future Racing quindi con Tamara Widman in questo momento nel tratto più impegnativo della salita qui nel tratto del bosco ci sono gli eccitamenti e con la nostra camera stiamo seguendo queste emozionantissime fasi con le ragazze quasi sembra di essere in mezzo a loro a pedalare con Tamara Widman quindi a 35 secondi Chiara Teocchi piede giù e beh ci si lancia ora in discesa verso il traguardo con appunto il passaggio che sancisce ancora una volta il suo grande stato di forma eccola qua il passaggio Chiara Teocchi quindi siamo lanciati nel primo passaggio alla fine del primo passaggio quattro giri adesso Chiara deve appunto affrontare col cartello organizzativo vediamo quindi Tamara Widman Trek Future Racing si vedono ha il vantaggio di poterla vedere ancora Chiara Teocchi in questo tratto del parco Trekastagni molto aperto quindi almeno appunto riesce a farsi forza a farsi morale per Tamara Widman che sta inseguendo a 35 secondi Chiara Teocchi intanto eccoci qua la leader del circuito la leader della prova open qui al passaggio sul Rock Garden e il drop questo salto che praticamente non spara verso l'alto non è le atlete ma appunto le tiene e le lancia sul piano o in leggera discesa qui Tamara Widman poi anche lei al passaggio qui sul drop eccoci con l'austriaca Astrid Miola in terza posizione e il Corridor Team lo svantaggio è un po' più importante perché siamo sui 5 minuti mentre un po' di più per Marta Zanga KTM Protect Eletro System Francesca Saku Team Cingolani al passaggio in quinta posizione per quanto riguarda poi intanto con la leader della categoria Juniores si gioisce con Zada Martinoli che va a prendersi quindi la vittoria della Ugreen Gorla Minore e con Gael Gasperini Reismonto e Folcarelli a 1 minuto e 21 importante anche questo gap per Zada Martinoli nei confronti di tutte le sue avversarie nelle capite della Zira Guerciotti arriva quindi quarta Valer Terzi della Ugreen Gorla Minore Emily Bionaz della Cicli Lucchini Sesta Martina Ceriati Pedale Fidentino dall'Emilia Romagna Gaia Santin Likuga Mountain Bike a Nick Brazzo Duro della Unione Sportiva Lite Gosa e a Elena Delben Team Verona ma giusto in tempo per la vittoria trionfale di Chiara Teocchi con la nostra sintesi filmata andiamo a cogliere la gioia saluta le nostre telecamere Chiara Teocchi l'inossidabile Chiara Teocchi arriva quindi Tamara Whitman eccoci qua con 1 minuto e 08 di svantaggio come al solito appunto bellissimo e suggestivo anche vedere che le ragazze e i ragazzi si scambiano reciprocamente i appunto i complimenti qui intanto arriva la portata dei colori del El Corridor Team a 7 minuti e 20 Astrid Miola Marta Zanga KTM Protect Electro System a 8 minuti 22 appunto arriva quindi in quinta posizione Francesca Saccu del team Cingolani numero dorsale 48 che va a tagliare il traguardo quindi con la sesta posizione quella di Giorgia Stegagnolo della Race Mountain Fall Carally Team con Giulia Maria Graff Junior Team su Tirol Anna Ober Parleiter della Racing Chrono Platting con Sara Vincentini nona Team Sogno Veneto chiude la Top 10 Lisa Canciani della Lee Kugan Mountain Bike e quindi schiarate occhi sempre più leader in prima posizione gradino più alto del podio per lei con Tamara Whitman in seconda posizione anche per lei un consolidamento della maglia di leadership della categoria donne open under 23 e ora l'ultima prova e qui pioggia cambiano le condizioni meteo per i ragazzi che stanno per prendere il via in questo istante dato per la prova regina quella degli open quindi con 6 giri da percorrere con abbiamo visto subito nelle prime posizioni c'è il gruppo sportivo dei carabinieri la KTM protect il team ciclimanini il team todesco la sogno veneto abbiamo visto la race monte i folcarelli team il corridor ritroviamo il pedale fidentino la raven team la dynamic bike il team veloci raptor questi alcuni dei team che hanno optato appunto la prova valevole come memorial al vera per pergine bal sugana che adesso ha un cambio di scenario con la pioggia che comincia a battere sopra i caschi dei corridori questa appunto incognita adesso il terciatto era particolarmente secco e asciutto quindi insomma a salvo acquazzoni vedremo appunto un una gara non molto diversa per quanto riguarda quelle che abbiamo appena visto ma staremo a vedere intanto con Filippo Fontana che è il primo a transitare dinanzi la nostra appostazione con le telecamere dicevamo quindi siamo con Filippo Fontana gruppo sportivo dei carabinieri e che qui è il leader uscente dello scorso anno perché aveva vinto la prova proprio qui a pergine val sugana attenzione quindi siamo appunto con siamo abbiamo concluso la salita stiamo siamo entrati nel bike park sempre con Filippo Fontana ha fatto già saltare la corsa praticamente imponendo un ritmo forse nato il campione italiano di ciclocross 2023 di ostia antica a Roma ha ottenuto la maglia recentemente esce da un buon periodo di forma Filippo Fontana che è spinto dalle soddisfazioni raccolte da questo inverno l'atleta veneto classe 2000 quindi ha iniziato alla grande la stagione di mountain bike tra le elite mettendo nel mirino già diversi appuntamenti internazionali il circuito appunto dell'Italia bike up pronto a regalare grandi gioie quindi per Filippo Fontana qui adesso la pioggia comincia a diventare un po' più insistente vedete ancora comunque sia la polvere che si alza abbiamo visto un Filippo Fontana grande protagonista a Verona anche il vento adesso comincia ad alzare i teli che l'organizzazione appunto ha predisposto vediamo appunto quindi un cambio totale di scena dalla prima prova juniors che aveva il sole adesso nubi scure all'orizzonte cambiano completamente lo scenario beh siamo in alta montagna quindi anche una cosa abbastanza normale come si dice appunto sempre con la situazione meteorologica che può cambiare molto molto velocemente eccoci qua intanto sempre con i vari passaggi dinanzi le nostre telecamere secondo intanto abbiamo visto Alessio Agostinelli KTM Protect Electro System terzo Emanuele Uez primo anche degli under 23 mentre intanto stiamo seguendo appunto la prova di Filippo Fontana con la nostra sintesi che stiamo vedendo verso il primo passaggio sotto il traguardo e adesso vede il cartello 5 giri alla conclusione Filippo Fontana il primo che va al transito quindi con la KTM Protect Electro System nell'ordine Alessio Agostinelli terzo Emanuele Uez primo anche del di under 23 qui intanto stiamo vedendo il portacolori della Race Monta in Folcarelli team Antonio Folcarelli con Gianluca Cerri team con cicli in manini siamo sul minuto di svantaggio per loro ragazzi che per questo terciato di gara dovrebbero impiegarci tra il minuto poco meno di un minuto un'ora e trenta perdona un'ora e trenta un minuto il minuto è lo svantaggio appunto per abbiamo detto Folcarelli che si trova in quinta posizione Filippo Fontana intanto eccoci qua siamo al passaggio con la nostra sintesi nel bike park della gara e adesso si sta veramente abbattendo un bel acquazzone anche se le immagini non rendono in realtà si sta cominciando a piovere sempre di più infatti si intravede appunto le nubi molto minacciose in questo momento che si stanno abbattendo su certi tratti della corsa con Filippo Fontana che viene fuori dal ciclocross dal regno del fango che è molto abituato in un certo senso a questo tipo di clima il drop il passaggio quindi per Filippo Fontana fuori dal bike park seconda posizione Alessio Agostinelli in marchigiano appunto classe 97 lo ricordiamo appunto il 2018 ha avuto una bella stagione perché prese il bronzo conquistò il bronzo al campionetto italiano XCO e vestì anche la maglia della nazionale mondiale di XCO in Svizzera sempre in quell'anno sempre nel 2018 qui intanto vediamo appunto sempre il leader Filippo Fontana dei carabinieri che come abbiamo detto esce da un ottimo periodo di forno perché questo è il campione italiano 2023 di ciclocross quindi oramai ci siamo intanto sempre col passaggio nella zona del bosco veramente delle immagini stupende che appunto ci arrivano dal gruppo di Atlantide Video Service con l'Italia Bike Cup che vedrà appunto oltre la tappa abbiamo visto la tappa di Verona abbiamo assistito al grande spettacolo di Albenga Pergine Val Sugana adesso viviamo il live con Emanuele Uez al terzo passaggio ricordiamo anche poi le tappe che vedranno la prossima prova di Nalles All Categorie Marlene Sotirol Sunshine Races il primo aprile il 15 aprile saremo a Caneva al Mountain Bike Caneva e Trophy e la grande chiusura dell'Italia Bike Cup edizione 2023 sarà Kumayer ad Aosta il 27 di maggio eccoci qua appunto con Filippo Fontana con gli alberi in fiore sta anche esplodendo la primavera e oggi si va a prendere la vittoria esplode la primavera per Filippo Fontana nel gruppo di carabinieri va a prendersi il Memorial Alberat di Pergine Val Sugana in seconda posizione arriva il portacolori del KTM quindi con Alessio Agostinelli con Emanuele Uez in terza posizione il compagno del carabinieri Olimpia Vittoria che era appunto segnato ancora in terza posizione all'ultimo passaggio e quindi va a completare il successo di squadra con il podio della categoria Elite e il primo Under 23 Emanuele Uez a 1 minuto e 43 con la quarta posizione tendiamo poi di scorgere anche la top 10 arriva quindi ancora KTM che con carabinieri KTM che spendono le prime 4 posizioni Yannick Parisi Under 23 in quinta posizione e arriva Antonio Folcarelli Race Mountain Folcarelli Team la sua formazione quindi Fontana diventa così il nuovo possessore della maglia di leader categoria Women Elite Under 23 è il compagno Emanuele Uez che questa prova l'ha chiusa in terza posizione finale e si avvicina quindi notevolmente alla leadership ed è a 20 punti di svantaggio da Mario Bayer Filippo Fontana Alessi Agostinelli Emanuele Uez Yannick Parisi e con Antonio Folcarelli Gianluca Cerri invece con il team Cicli Manini arriva in sesta posizione Adolfo Canal Team Todesco Settimo Michael Pecis KTM Eletrosystem Ottavo Samuele Leone Team Cicli Manini lo ritroviamo nella top 10 Martino Zavan Team Sogno Veneto va a chiudere quindi la prova in decima posizione di Pergine Bal Sugana la maglia di leader come dicevamo Pocanzi va sulle spalle di Filippo Fontana da Leonardo Metalli è tutto l'appuntamento passa alla prossima prova Sì il percorso sembra facile perché non ci sono cose di livello di grosso livello di tecnica però nello stesso tempo diventa duro perché è un nervoso un vero cross country Quarta prova Anales anche lì una gara di alto livello ormai da anni penso che sarà la trentesima edizione o quasi io sono contento che anche lui sia entrato nel nostro circuito Italian Bike Up che sta crescendo sia di qualità di numero e di importanza e anche di sponsor e quindi sarà una bella gara Grazie